Il Comitato Liberi Insieme per la Salute nasce due anni fa ad agosto. Noi siamo un gruppo apartitico, ci siamo ritrovati in comitati spontanei. Così spontaneamente come ci siamo ritrovati abbiamo dato vita a delle manifestazioni. L'amministrazione e i partiti politici territoriali si sono schierati con la popolazione con no ardi gasificatore, creando un vero e proprio cortocircuito con la politica nazionale perché questa invece sta spingendo per approvare questo mostro. A liberi cittadini che sentono il bisogno di informarsi e di capire questa pandemia o pandemonio come si sta sviluppando. Il Comitato si è mosso a letto, si è sentito di prendere posizioni contro i vaccini, contro uno Stato che ci obbligava, che ci allontanava dal mondo del lavoro, che ci feriva, che ci umiliava. E di qui abbiamo poi via via fatto delle manifestazioni, cercato di sensibilizzare la cittadinanza. Abbiamo inscenato una protesta sulle strisce, andavamo avanti e indietro sulle strisce per costringere il traffico a rallentare in modo da poter sensibilizzare chi passava con le macchine dandogli dei volantini. E allo stesso tempo le manifestazioni hanno avuto lo stesso esito, insomma, naturale. Le proteste che coinvolgano l'installazione del rigassificatore all'interno del porto di Piombino dovrebbero coinvolgere il territorio nazionale e non solo quello locale. La preoccupazione più grossa è che Piombino diventi un precedente e che faccia da apripista per autorizzare queste opere senza le valutazioni legali. I piombinesi non sono né nimbi e no rigassificatore a prescindere. Il problema è che si vuole mettere quest'opera all'interno di questo piccolissimo porto senza fare nemmeno una valutazione, né di impatto ambientale, che ci sarà sicuramente visto lo sversamento dell'ipoclorito di sodio nel mare, né per quanto riguarda la sicurezza, né uno studio approfondito sul territorio, che riguardi anche la morfologia e le correnti del porto, né per quanto riguarda la valutazione della legge Seveso. La relazione della SNAM è molto fallace perché mancano le percentuali di riferimento, vengono usati solamente aggettivi, la nave usata per la simulazione non è quella che dovrebbe arrivare a Piombino e la carta del porto è una carta obsoleta perché non prevedeva il pennone che è stato costruito qualche anno fa, che racchiude ancora di più il piccolo porto. Non capiamo perché si voglia mettere un rigassificatore nel porto di Piombino, ma attenzione anche negli altri porti, visto che ogni rigassificatore contribuirebbe per il solo 5% al fabbisogno nazionale. Il comune di Piombino come amministrazione ha subito espresso perplessità che poi si sono trasformati in dei nostri ecchi anche grazie alla cittadinanza che ha evidenziato proprio uno scontro forte nei confronti di questo rigassificatore sia per motivi di sicurezza che ambientale che di futuro per la città. 752 piattaforme inattive che nel giro di pochi mesi potrebbero essere riattivate. Smettiamo di vendere gas all'estero. Continuiamo a comprare gas dalla Russia fino a quando non saremo autosufficienti. Smettiamo con queste sanzioni e invio di armi all'Ucraina, visto che l'invio di armi è anticostituzionale. Capito Draghi? Il sindaco di Piombino col passare dei giorni ha ben capito di cosa si stava parlando e ha preso proprio la difesa di noi e della propria città. Ci sono tutti i presupposti per dire che quest'opera è impattante e pericolosa e che è infattibile nel nostro territorio, ma la politica sta cercando con prepotenza di imporci questo tipo di opera. Non valutando l'impatto che può avere anche sulla cittadinanza e sulla sicurezza anche degli esseri umani, visto che questa installazione sarà a 300 metri dalle prime abitazioni. Sono state tante le osservazioni fatte sia dai comitati che dai liberi cittadini. per quanto riguardano la relazione della SNAM sono state depositate alla regione toscana. Alcuni membri dei comitati si sono rimessi a studiare per cercare di fermare questo scempio a livello legale. Devo dire che ammiro molto queste persone che stanno spendendo il loro tempo e le loro energie per difendere il nostro territorio. Ormai sono più di due anni che questo governo, a son di emergenze, sta cercando di imporci delle scelte scellerate. L'ultima è questa dell'emergenza del gas, che tra l'altro è stata smentita qualche giorno fa dall'ex dirigente dell'ENI, che ha fatto un quadro della situazione che è in netto contrasto con quello che ci sta raccontando il governo. Va ricordato che è una città industriale che ha pagato molto in termini di morti di persone che tutt'oggi lottano con malattie di una certa gravità e quindi posizionare un gasificatore di questa portata che sverserebbe in mare migliaia di litri di acqua e cloro dove distrugge l'ecosistema marino è ovvio che mette in grave pericolo anche la salute. E non solo la salute, intorno alle attività portuali ci sono molti che hanno investito in allevamenti agroittici, in impianti turistici e balneari e quindi viene da sé che le attività lavorative ne verrebbero fortemente danneggiate. Anche i comuni limitrofi e per ultimo anche l'isola d'Elba che abbiamo qui alle spalle si è resa conto che la presenza di questo gasificatore comprometterebbe anche la propria economia in quanto al di là del rischio rilevante che è indubbio e per i quali i propri piombinesi si sono giustamente spaventati e oltre anche al rischio ambientale, quello economico è quello che più difficilmente si può quantizzare, bloccherebbe parzialmente il porto, non sappiamo però in che termini, bloccherebbe le attività anche del piccolo cabotaggio che si sta concretizzando intorno proprio all'area di Bocca di Cornea e quindi anche l'Elba stessa, faccio presente che il porto di Piombino è il secondo porto per il numero di passeggeri in Italia, ecco questo subirebbe un grave danno. Io sono una cittadina, sono una mamma e sono piombinese di nascita e sto lottando per ridare dignità alla mia città perché penso Piombino abbia già dato negli anni, è una città che sta risorgendo dalle sue ceneri, sta cercando di lottare con tutte le sue forze per avere una svolta, un futuro, un futuro migliore e i piombinessi stanno già pagando sia in termini economici e ambientali ma soprattutto di salute, le vecchie scelte fatte nei tempi passati. Stiamo lottando con malattie anche importanti e questo è una piaga che purtroppo ci affligge. Al centro del porto di Piombino e a pochissima distanza dalla città e dalle abitazioni, per cui è ovvio che il rischio di un incidente gravissimo, si spera che non accada, ma anche un incidente di poco conto può mettere in pericolo quella che sono la salute e la sicurezza della città. In questi politici dove arriva l'etica? Cioè quanto una comunità può essere sacrificata per l'economia? Cioè si sceglie un posto, si valuta che questo posto può essere sacrificato per una certa elite economica, passando sopra la salute, la sicurezza e l'economia di una comunità. Dagli anni 70, dopo la tragedia di Seveso, andrebbero rispettate alcune norme di sicurezza sia per il discorso ambientale sia per il discorso della salute. Quindi io non capisco come possa essere collocato o aver scelto Piombino per posizionare questo gasificatore in così poco tempo, senza valutare, senza fare studi sull'impatto ambientale e sull'impatto lavorativo e della salute. Ai politici dico che il territorio non è una proprietà, il territorio è di tutti e i politici dovrebbero essere lì per portare la voce del popolo, cosa che mi sembra ultimamente invece non succede. Ma noi siamo qui a ricordarglielo. Siamo una città operaia, lo è sempre stata. Quando io ero piccolina, fuori dall'acciaieria che i crumiri andavano al lavoro, io e il mio babbo e tantissimi altri si tirava una lira, una lira ai crumiri. Cioè voglio dire, com'è che può pensare Calenda di portare l'esercito a Piombino? Cioè questa è un'offesa, Piombino, che gli è stata data la medaglia d'oro, d'oro per la resistenza al valor militare nel 1943, che io non c'ero, ma è storia, è la nostra storia, scusate la commozione. Come può pensare di mandare qui l'esercito? Provaci, provaci Calenda e vedrai, troverai pane per i tuoi denti. Siccome Piombino è uscito da una... sta uscendo, non è uscito, è uscito con le proprie forze da una crisi siderurgica e ora davvero sta cambiando volto, questo rigassificatore potrebbe di nuovo farlo ripiombare nell'inferno dal quale vuole uscire a tutti i costi. I Piombinesi non sono quelli del NIMBY, sono persone che hanno dato tanto, hanno subito anche in termini di vita umane, proprio per la salute messa a rischio dall'industria pesante. Abbiamo lottato per una discarica che si è raddoppiata nel corso degli anni, che ora corrisponde a circa due piramidi di Cheope, di rifiuti speciali non pericolosi. Quindi i Piombinesi hanno imparato a lottare in questi ultimi anni e non ci fermiamo certo adesso. E se qualcuno minaccia la presenza dell'esercito per farci stare zitti, beh, non è che ci mettiamo contro l'esercito, ma sicuramente consigliamo chi va a votare di votare per una persona che rappresenta la democrazia. Grazie a tutti.